A Vatolla, nel cuore del Cilento, dove la tradizione prende forma in sapori, colori ed odori, l'Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Perdifumo organizza la prima edizione di Vatolla Vico in Festa, martedì 19 agosto a partire dalle ore 20 e 30. Vatolla si veste di tradizione dove il gusto della cilentanità si manifesta in tutte le sue forme. Si potranno infatti degustare i piatti tipici della cucina locale in un percorso enogastronomico di qualità, il tutto nel rispetto della cultura tipicamente cilentana. All'interno della manifestazione vi saranno mostre fotografiche e pittoriche, esposizioni artigianali, artisti di strada e la musica del gruppo Cilento Tarant, che canta il cilento con grande maestria e compassione e che rispecchia il carattere della terra cilentana. È un appuntamento nel quale vogliamo aprire le porte, in questa occasione, del centro storico di Vatolla. Vatolla sappiamo che è rinomata per aver ospitato il grande filosofo Gian Battista Vico. Da qui il nome Vico in Festa, Vico, richiamando la presenza del filosofo nel borgo bellissimo di Vatolla e Vico, perché si animeranno anche lì i vicchi del paese. Non potete mancare.